ciao a tutti oggi è arrivato il momento di svelarvi di presentarvi anche il tutorial del mio progetto che fa parte della box creata in occasione del quinto creative anniversary del sito semplici bijou però ci sono in questa box anche i progetti di morose creation e di burzi creazioni che vedrete nel corso del mese di marzo sempre sui loro rispettivi canali youtube in ogni caso non vi faccio aspettare oltre perché avete già aspettato abbastanza e vi faccio vedere subito gli orecchini che ho deciso di chiamare roller coasters e ora vi spiego perché ecco questi sono gli orecchini gli orecchini roller coasters che sono abbastanza grandi e appunto questa parola vuol dire montagne russe infatti vedete il bordo di questi orecchini è così poi qui abbiamo il reto che è abbastanza simpatico e che ovviamente per dare sostegno a tutta questa struttura si tratta di un rivoli da 12 millimetri incastonato direttamente con le ginkgo ovviamente spero che vi piacciono vi spiego velocemente perché ho deciso di chiamarli così ovviamente questa parola è una parola che tra virgolette ho scoperto all'interno della canzone wanna be your slave dei moneskin e mi piaceva però utilizzarla in questa occasione perché mi sembra un po la metafora della vita nel senso anche di tutte le attività che si intraprendono perché appunto nella vita ci sono alti e bassi e noi siamo lì a resistere anche insomma ci prepariamo anche un po ai momenti di caduta libera che ci possono essere però nello stesso tempo dobbiamo anche goderci i momenti di allegria e di euforia che pure ci sono ecco per questo mi piaceva utilizzare questo questo nome spero che piaccia anche a voi e spero che vi piaccia il progetto vi lascio l'elenco dei materiali e poi iniziamo insieme a realizzarli vi anticipo che ci vorrà un pochino di pazienza per farli per questo un pochino mi dispiace ma li ho spiegati nel modo più semplice possibile ma vi dico anche che comunque è più difficile spiegarli che in realtà farli perché non sono difficili quindi ci vediamo tra pochissimo e vi ringrazio già in anticipo a presto per realizzare i giochini di roller coasters vi servirà innanzitutto un filo di nylon monofilamento da 0 20 mm o meglio io vi consiglio questo lo trovate sul sito semplici bijou vi lascio sotto il link nell'info box poi serviranno servirà meglio un ago numero 11 della poni allora serviranno due anellini poi due perni in acciaio tondo martellato da 12 mm poi serviranno 28 drop duo e queste sono nel colore jet full marea matted poi serviranno 28 5 e queste sono nel colore suede gold farm poi serviranno due rivoli e da 12 mm e questi sono nel color topaz di cristallo poi serviranno 14 perle di vetro cieche da 4 mm nel colore neon sunflower poi serviranno le rocai miyuki 11 0 queste sono nel colore duracot galvanese dark moon non sono tutte ci sono ancora le altre nella bustina perché ne servono tante e ce ne sono tante nel kit e poi queste sono le rocai miyuki 15 0 nel colore duracot galvanese champagne a tra poco ecco per iniziare i nostri orecchini questa volta faremo una cosa diversa dal solito cioè metteremo una stopping bid dobbiamo portare questa 11 0 quasi alla fine del filo ma lasciamo un 10 cm e poi vi volevo dire che il filo lo tagliato di 2 metri 40 fatelo anche voi quindi allora andiamo a portare appunto quasi alla fine del filo questa rocai e molte di voi già sanno benissimo come fissare una stopping bid vedete lascio questo questa parte del capo del filo e mi vado a rinfilare e ci andiamo a infilare in questa rocai appunto così nel verso opposto e in questo modo la fisseremo io sinceramente lo faccio un'altra volta perché appunto dobbiamo infilare in maniera un po diversa stavolta le perline e quindi ci conviene che questa rocai sia ben fissata in maniera tale che praticamente siamo poi sicuri che le perline non vadano da nessuna parte ecco qui così fatto questo vedete ecco qui la nostra stopping bid eccola qui è praticamente adesso procediamo con la lavorazione adesso mettiamo sul lago questa sequenza e cioè una ginko in questo modo una drop duo nella parte più larga e 3 rocai 15 0 portiamo tutto vicino alla stopping bid appunto così poi possiamo procedere ecco qua siamo ci troviamo così e dobbiamo andarci a inserire nella parte sottile della drop duo così ci ritroveremo così e adesso dobbiamo inserire un'altra sequenza che vediamo insieme ecco adesso dobbiamo mettere sul lago una rocai 15 0 una drop duo ma dalla parte più stretta dalla parte della punta e poi una rocai 11 una perla da 4 e una rocai 11 tutto questo lo avviciniamo al lavoro così e verremo a trovarci in questo modo vedete così avvicinando il tutto al lavoro adesso andiamo a inserirci nella punta della prima drop duo che abbiamo inserito qui nel foro quello della punta della prima drop duo tiriamo il filo ecco tiriamo il filo e ci verremo a trovare così adesso dobbiamo però andarci inserire anche nella rocai 15 0 che abbiamo tra le drop duo e poi nell'altra drop duo la seconda che abbiamo inserito perché noi in questo modo avremo sistemato le due drop duo ma anche fatto un altro piccolo diciamo giro su ds fissando le rocai 11 con la perla in questo modo non importa che adesso la ginkgo sta un po in disparte ecco ci dobbiamo ritrovare così faccio vedere bene ecco così e adesso però dobbiamo mettere sul lago 3 rocai 15 0 eccole e ci andiamo inserire nella parte diciamo nel foro libero della drop duo e poi anche nel foro libero della ginkgo tiriamo il filo tiriamo il filo e ci ritroveremo così faccio vedere bene ecco qua dovremo trovarci in questo modo e adesso dobbiamo ripetere questo modulo per altre sei volte quindi sette in tutto ma siccome appunto è il secondo passaggio lo facciamo velocemente insieme e dobbiamo però rispetto a prima aggiungere una rocai 11 0 perché questa inter farà da intervallo diciamo tra uno e l'altro di questi piccoli design quindi a tra pochissimo dicevo ripetiamo questo passaggio solo perché come vi stavo dicendo qui dobbiamo prima mettere la rocai 11 0 rispetto a quello che abbiamo fatto prima e poi la ginkgo poi la drop 2 nella parte larga poi le 3 15 0 avviciniamo tutto al lavoro e procediamo come prima lo rifaccio solo per maggior sicurezza solo per chiarezza allora ci troveremo così vedete la 11 0 si va a posizionare tra uno e l'altro di questi diciamo di questi inserimenti che facciamo intanto ci andiamo a inserire nel foro libero della drop 2 quindi la parte con la punta e poi il resto uguale tiriamo però il filo e ci vedremo a trovare così le 15 0 si sistemano sulla drop 2 e poi inseriamo come abbiamo fatto prima una rocai 15 0 una drop 2 dicevo una rocai 15 0 una drop 2 nella parte della punta e poi rocai 11 perla da 4 e lo cai 11 per fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima ecco qua viciniamo al lavoro e andiamo a inserirci vediamo bene rimettiamoci nella stessa posizione di prima andiamo a inserirci nella parte diciamo nel nel foro più vicino alla punta della prima drop 2 che avevamo inserito visto che siamo così vi faccio vedere diversamente questo passaggio ma è sempre lo stesso cioè ci inseriamo già nella rocai 15 e nella seconda delle drop 2 che abbiamo inserito e così ci troviamo bene già per poi fare il passaggio successivo tiriamo il filo stavolta abbiamo fatto tutto in una volta insomma differenza di prima e ci ritroveremo così ci troviamo in questo modo e mettiamo sul lago 3 rocai e 15 0 eccole e ci andiamo a inserire nel foro libero della drop 2 la seconda che avevamo inserito e poi nel foro libero della ginkgo ecco qua ovviamente dovremo tirare bene il filo perché non ci devono essere gli spazi tra uno e l'altro di questi inserimenti tra uno e l'altra diciamo di queste ginkgo tiriamo il filo bene scusate adesso un po lungo come sapete all'inizio ecco vedete c'è un po di spazio ma noi dobbiamo tirare bene il filo e comunque questa cosa si andrà in ogni caso a sistemare dopo come vedrete quando andremo avanti con la lavorazione quindi innanzitutto questi sono i due moduli e ne dovete fare ne dobbiamo fare altri cinque mi raccomando intervallati dalla 11 0 una volta terminato questo giro un po diverso dal solito ci vediamo qui a tra poco terminato il giro ci ritroveremo così probabilmente si disporranno in un altro modo un po sfalsate ma voi mettetele in maniera diciamo che stiano così vedete che abbiano una forma circolare ora la cosa importante che adesso vi richiede un pochino di pazienza e cioè abbiamo inserito le sette ginkgo con le drop duo le perle eccetera però una cosa importante dobbiamo prima mettere sul lago una rocai 11 0 perché vedete qui mancherebbe la congiunzione con l'altra ginkgo con la prima ginkgo che abbiamo inserito perché questa che vedete invece è la stopping bid che non dobbiamo considerare quindi mettiamo sul lago una locai 11 0 e ne andiamo a inserirci in questo punto qua proprio nella prima ginkgo che abbiamo inserito e quindi vicino alla stopping bid che poi ovviamente toglieremo ma perché vi richiedo un po di pazienza intanto tiriamo il filo perché adesso dobbiamo ripassare in tutte queste perline dobbiamo ripassare perché potremmo anche non farlo non è fare quindi il nodo tra i due capi ma preferisco che facciamo un giro di rinforzo che tra l'altro comunque tornerà qui in ogni caso utile perché vi dico che sarà un pochetto noioso perché dobbiamo fare in questo modo cioè abbiamo attraversato la prima ginkgo che abbiamo inserito ma poi attraversiamo anche la drop duo e il giro di ripasso in tutte queste perline lo dobbiamo fare così così come vi faccio vedere io tra un attimo quindi attraversiamo la drop duo e poi attraversiamo anche le tre locai 15 0 non importa che adesso sotto la situazione si va a diciamo a ingarbugliare no che non si vede più il cerchio ma poi si ricostituirà e quindi ci inseriamo nelle tre 15 0 tiriamo il filo ci ritroveremo così e poi però la cosa che vi dico che non dobbiamo attraversare la rocai 11 la per rocai 11 no dobbiamo andare qui sotto nella quindi usciamo dalle tre rocai 15 0 andiamo nella drop duo e nella 15 0 che viene dopo tiriamo il filo e poi attraversiamo anche l'altra drop duo e poi le 15 0 e tutto il resto delle perline che troviamo di seguito quindi attraversiamo le tre 15 0 stiamo scendo da qui dalla drop duo attraversiamo le tre 15 0 tiriamo il filo e poi attraversiamo la drop duo nella parte più larga la ginkgo e poi la rocai visto che ci riusciamo facciamolo insieme anche perché ripeto questa procedura è un pochino noiosa tiriamo il filo ci ritroveremo così e dobbiamo proseguire quindi inserendoci nella ginkgo nella drop duo nelle tre rocai nella drop duo quindi fare questo percorso non andiamo ad attraversare questa parte qua no attraversiamo qua sotto e proseguiamo ancora dobbiamo ripassare in tutte queste perdine fino a che il nostro capo del filo non si andrà a trovare qui a congiungersi vedete con la stopping bid ad uscire accanto da questa rocai qui quindi accanto alla stopping bid che poi toglieremo e faremo finalmente i due nodi quindi ci rivediamo qui quando avremo finito questo giro di ripasso nelle perline ecco è terminato il giro vedete stiamo uscendo da questa rocai che va a finire proprio sotto la prima ginkgo che avevamo inserito qui abbiamo la stopping bid che ho già sbloccato di un passaggio e adesso vado a sbloccare definitivamente e dobbiamo con questo capo corto e il resto del nostro filo fare due nodi adesso non si vedrà benissimo ma facciamoli io tento di farli nel modo più chiaro possibile dobbiamo fare attenzione a che ovviamente il nodo vada diciamo vada nel posto giusto e poi anche l'altro nodo non vi preoccupate che adesso tutto è mobile perché tra un po si sistema tutto ecco qua spero di non essere uscita fuori camera allora niente in pratica qui abbiamo fatto i due nodi adesso dobbiamo sistemare praticamente il filo capo corto e lo facciamo insieme tra un attimo ecco perché lo voglio fare con voi perché sarebbe un pochino difficoltoso farlo senza l'aiuto di questo ago apribile che io spero abbiate detto anche ago con occhio centrale e della b smith si vende sui siti sicuramente ce l'hanno anche appunto sul sito semplici bijou anche se forse al momento sono terminati però vi consiglio di procurarvelo perché così facciamo prima lo sistemiamo qui questo capo corto e andiamo a inserirci mi raccomando nella ginko nella ginko che proprio la prima che abbiamo inserito nella ginko che quella vicino al nodo e ci inseriamo un po in alcune perline prima di tagliare poi finalmente questo filo perché ci ha dato un fastidio allucinante fino ad adesso e praticamente ecco facciamo così voi vi starete anche chiedendo ma perché antonella ci ha fatto fare questa cosa e non un po diciamo le cose tradizionali una lavorazione più semplice ecco purtroppo io ci ho provato a semplificare questa cosa ma non ci sono riuscita perché questo lecchino è nato così io poi ho perso un paio di sere a tentare di cambiare questa cosa ma non ci sono riuscita per cui ho detto dobbiamo farlo per forza così perché questo lecchino però vi voglio specificare è più semplice da fare che da spiegare ed è stato più semplice da inventare che da appunto decidere come spiegarlo sostanzialmente questo vi volevo dire tagliamo il filo e appunto ce ne siamo liberati e poi però appunto siamo qui vicino al punto scusatemi eccomi qua vicino alla rocaille che quella accanto alla quale avevamo fatto il nodo e cosa molto molto importante ci andiamo a inserire quindi col nostro ago nella rocaille 11 0 che abbiamo sotto la ginkgo e adesso finalmente tutto si normalizza un pochetto è perché tiriamo il filo e iniziamo a fare quella che sarà la nostra incastonatura comunque tutto sommato questa è una parte un po più bruttina è quindi vi assicuro che adesso sarà più semplice è un po come con i gremi insomma un po la lavorazione un pochino antipatica però poi spero ne valga la pena anche stavolta per i gremi voi mi avete fatto capire che ne valeva la pena ora mettiamo sul lago 3 rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 11 0 che viene dopo questa qui tiriamo il filo ci troveremo così dobbiamo fare attenzione non far impigliare il filo in questo caso ecco e si sistemeranno così le tre rocaille lo rifacciamo solo per sicurezza mettiamo appunto le tre rocaille 11 0 sul lago e ci andiamo inserire nella rocaille successiva tiriamo il filo e si sistemeranno così faremo la parte che poi dal davanti conterrà il cristallo da 12 mm il rivoli da 12 mm lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo qui tra poco una volta terminato questo giro ci ritroveremo così e finalmente abbiamo una forma un po più familiare un po più stabile un po più tondeggiante ritornati nella rocaille di partenza però attraversiamo anche le tre rocaille 11 0 quelle che abbiamo aggiunto perché facciamo questo perché adesso dobbiamo eccoci qua dobbiamo andare a ripassare in questo giro ma senza passare dalla rocaille quella che intervallava le ginkgo no uscendo dalle tre rocaille aggiunte dobbiamo andare direttamente nelle altre tre rocaille aggiunte successive senza più passare nella rocaille di partenza perché così si stringerà meglio questa parte importante che sia ben stretta perché deve contenere come vi dicevo i rivoli quindi attraversiamo le tre rocaille e uniamo tra di loro fatto questo per tutto il giro dobbiamo anche ripassare di nuovo sempre nelle tre rocaille quindi semmai ci rivediamo tra un po ma sostanzialmente ripassiamo queste rocaille 11 0 aggiunte e poi ripassiamo di nuovo qui proprio perché voglio che sia ben stretto a tra poco ecco fatto questo vedete il filo che si intravede qui tra le tre rocaille e però facciamo il giro di ripasso di questa parte qui e ci rivediamo tra un po ecco fatto anche il giro di rinforzo stiamo uscendo si dalle tre rocaille ma stavolta andiamo di nuovo a inserirci nella rocaille invece che si trova e che si trovava originariamente tra le ginkgo perché dobbiamo fare degli archetti che conterranno il rivoli tiriamo il filo e ci ritroviamo così ad uscire da questa rocaille adesso dobbiamo semplicemente mettere sul lago 5 rocaille 11 0 eccole e andarci inserire nella rocaille sempre quella tra le ginkgo successiva ci inseriamo qui si formerà l'archetto di 5 rocaille così ecco qua l'archetto lo rifacciamo per tutto il giro quindi dobbiamo farne altre 6 7 archetti in tutto e ci rivediamo qui tra poco terminati gli archetti portiamoci ad uscire dalla terza rocaille delle 5 dell'archetto quindi dalla rocaille centrale mettiamo sul lago 2 rocaille 11 0 eccole e ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo tiriamo il filo e ci ritroveremo così lo facciamo per tutto il giro terminiamo insieme questo inserimento delle due rocaille perché vedete vi volevo far vedere bene il punto in cui dobbiamo inserirci ci andiamo a inserire nella rocaille centrale dell'archetto che quello da cui eravamo partiti e poi ci inseriamo anche nelle rocaille successive un pochino quindi sia in quelle di punta degli archetti che nelle due aggiunte lo facciamo per un po questo questo ripasso diciamo qui ancora solo un pochino e usciamo dalle due rocaille aggiunte adesso tirando il filo ovviamente non dobbiamo tirarlo troppo perché dobbiamo inserire il rigoli che prendiamo e lo inseriamo appunto nella parte con la parte brillante verso il basso poi tiriamo il filo e inizierà un pochino a stringersi ecco qui però per stringerlo bene per incastonare bene dobbiamo adesso ripassare sì qui nelle rocaille ma non andiamo più ad attraversare ce lo facciamo ancora un'altra volta non attraversare le rocaille del proprio del di punta dell'archetto di cinque tiriamo bene il filo e adesso invece nel ripassare andiamo a inserirci solo nelle due rocaille aggiunte vedete che già va abbastanza bene insomma l'incastonatura però dobbiamo ripassare come sempre in questi casi e quindi ci andiamo a inserire anche ripeto solo nelle due rocaille aggiunte non ripassiamo più nella rocaille di punta così tiriamo il filo lo facciamo per tutto il giro quindi ripassare nelle due rocaille aggiunte e ci vediamo qui tra poco così il rivoli sarà ben incastonato ecco fatto questo lavoro di rinforzo ci ritroveremo così e il rivoli è incastonato eccolo qui allora cosa facciamo adesso stiamo uscendo da queste due rocaille no quelle aggiunte e io vi dico di non passare in questa rocaille di incrocio ma di andare direttamente qui su in queste due rocaille perché dobbiamo andare a portarci diciamo nella parte alta della lavorazione adesso tiriamo il filo e quindi ci ritroveremo così e poi dobbiamo andare ad attraversare anche questa rocaille che si trova tra le ginkgo così siamo in questa rocaille e poi dobbiamo risalire nella ginkgo e nella drop duo spostiamo un poco la drop duo risaliamo nella ginkgo e risaliamo nella drop duo ci troveremo così e poi andiamo a ad attraversare queste rocaille 15 0 poi attraversiamo questa volta la rocaille 11 0 e la perla attraversiamo anche la rocaille 11 0 che abbiamo da questa parte e le rocaille 15 così e quindi in pratica ci dobbiamo portare ad uscire in questo punto che vedete così da questo punto qui dicevo mettiamo sul lago una rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire solo nelle prime due rocaille che abbiamo qui a sinistra tiriamo il filo e ci ritroveremo così ci ritroveremo così e andiamo a mettere e inserire questa sequenza prendiamo una rocaille 15 0 poi una ginkgo e poi tre rocaille 11 in questo modo dobbiamo inserirci la ginkgo la dobbiamo mettere in questa posizione portiamo tutto vicino al lavoro e poi andiamo a inserirci nel foro libero della ginkgo tiriamo il filo ci ritroveremo così e poi prendiamo però un'altra rocaille 15 0 e ci andiamo a inserire in questo caso nelle ultime due rocaille 15 0 che abbiamo qui sotto e poi attraversiamo anche la rocaille 15 e poi attraversiamo anche la rocaille 11 tiriamo il filo e ci ritroveremo così ci ritroveremo così adesso ci andiamo a inserire nelle rocaille 15 0 che abbiamo sotto la ginkgo queste due ma se riusciamo anche nella terza e se riusciamo anche nella rocaille 11 0 dobbiamo risalire in queste rocaille che abbiamo qui sulla sinistra tiriamo il filo e ci ritroveremo così ecco che la ginkgo si sistemerà in questo modo poi attraversiamo anche la perla da 4 la rocaille e anche queste altre due rocaille 15 0 ma poi dovremo attraversare anche l'altra solo che per la posizione era un po scomoda attraversiamo anche questa perché così ci riportiamo nel punto di partenza per ripetere questo passaggio di inserimento diciamo del secondo giro di ginkgo che abbiamo appena fatto e quindi lo rifacciamo un'altra volta mettiamo una rocaille 11 0 attraversiamo solo due di queste rocaille che sono sulla drop duo che si trova a sinistra tiriamo il filo ci ritroveremo così poi inseriamo una rocaille 15 scusate una ginkgo in questo modo che vi faccio vedere tra un attimo e le tre rocaille 11 0 poi avviciniamo al lavoro e andiamo a inserirci nella nel foro libero della ginkgo tiriamo il filo poi prendiamo un'altra rocaille 15 ci andiamo a inserire nelle solo nelle ultime due di queste rocaille che si trovano accanto alla drop 2 di queste rocaille 15 che si trovano accanto alla drop 2 tiriamo il filo e avremo sistemato l'altra ginkgo così poi non dobbiamo far altro che risalire in queste rocaille e andare ad uscire di nuovo da questo punto qui dall'ultima delle tre rocaille 15 0 che si trovano sulla drop 2 e così via lo facciamo per tutto il giro ci vediamo qui tra un po terminato il giro dell'inserimento delle ginkgo ci ritroveremo così e ci portiamo ad uscire dalla perla da 4 mm mettiamo sul lago una rocaille 15 0 e quattro rocaille 11 proprio in questo ordine e ci andiamo a inserire nelle tre rocaille che si trovano sulla ginkgo tiriamo il filo e ci troveremo così poi mettiamo sull'ago la sequenza diciamo invertita quindi 4 rocaille 11 e poi la 15 0 ecco qui e ci andiamo a inserire nella perla da 4 quindi questo inserimento semplice anzi questi inserimenti alternati molto semplici li dobbiamo ripetere per tutto il giro e ci vediamo qui tra poco terminato il giro ci ritroveremo così e poi dobbiamo anche ripassare questi ultimi inserimenti ci portiamo ad uscire da una perla da 4 mm e giriamo il lavoro perché dobbiamo fare i sostegni sul retro allora innanzitutto dopo aver attraversato la perla attraversiamo anche la rocaille 11 0 che si trova vicino alla perla che poi era quella che già inizialmente nelle prime fasi della lavorazione si trovava vicino alla perla e da qui partiamo per mettere sul lago tre rocaille 11 0 e andarci a inserire nella rocaille che si trova proprio sotto la punta della ginkgo questa qui facciamo così e tiriamo il filo e ci ritroveremo così poi prendiamo altre tre rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che precede la perla come vi dicevo quella che originariamente stava vicino alla alla perla da quattro tiriamo il filo e ci ritroveremo così poi ovviamente attraversiamo la perla da quattro che viene dopo ricordiamoci di attraversare anche la rocaille 11 0 che si trova accanto e da qui potremo ripetere questi due passaggi per tutto il giro ecco mentre facciamo questi rinforzi tiriamo bene il filo però in ogni caso è normale che siano proprio così che gli archetti rimangono un po sollevati rimangano un po sollevati perché vedrete adesso si andranno a sistemare ora ci portiamo sempre ad uscire dalla perla è però in questo caso risaliamo nella 15 0 e nelle rocaille che seguono nelle 4 11 0 seguenti ora vi faccio vedere giro per comodità attraversiamo la rocaille 15 0 e le 4 rocaille 11 che seguono così tiriamo il filo e ci troviamo così adesso giro di nuovo dal retro perché adesso dobbiamo inserire 4 rocaille 11 0 e una 15 0 ecco queste rocaille qui 4 11 e una 15 e ci dobbiamo andare a inserire in questa rocaille vedete che è l'ultima delle tre che abbiamo inserito nel giro precedente vi faccio vedere meglio questa qui ma poi dobbiamo andare anche nell'altra rocaille lo facciamo contemporaneamente quindi queste rocaille che si trovano sotto la punta della ginkgo l'ultima del primo gruppetto di tre è la prima del secondo gruppetto di tre tiriamo il filo e ci troveremo così e poi mettiamo sul lago in maniera invertita prima la 15 0 e poi le 4 11 0 e che vi faccio vedere ecco qui scusate ecco qui appunto una 15 e 4 11 0 e ci andiamo a inserire adesso saltando queste tre rocaille che erano quelle originariamente che si trovavano sulla ginkgo andiamo nelle ultime quattro rocaille 11 0 e poi anche nella 15 0 se riusciamo contemporaneamente ecco qui ce l'abbiamo fatta tiriamo il filo e ci troveremo così ecco vedete perché vi dicevo che i gruppetti di tre poi si andranno a distendere proprio perché dovevamo inserirci qui con questi altri sostegni quindi ovviamente poi che facciamo proseguiamo ancora nella perla successiva proseguiamo qui su e giro per comodità nella 15 0 e nelle 4 11 che seguono e poi da qui ovviamente ripetiamo questi passaggi come abbiamo appena fatto lo facciamo per tutto il giro ci vediamo qui tra poco terminato il giro ci ritroveremo così e ci portiamo sempre ad uscire dalla perla ecco qua praticamente che facciamo adesso dobbiamo attraversare la rocaille che si trovava originariamente vicino alla perla questa qui appena sotto poi attraversiamo anche queste tre rocaille che avevamo aggiunto e poi dobbiamo fare questo cioè mettere sul lago 5 rocaille 11 0 queste qui e andarci a inserire facciamo attenzione andiamo sotto questa ginkgo che abbiamo a sinistra dal punto in cui stiamo uscendo e ci inseriamo qui in questa rocaille che praticamente fa parte dell'archetto di 5 vedete quindi la seconda diciamo dell'archetto di 5 che avevamo fatto per incastonare i rivoli poi attraversiamo anche la rocaille centrale dell'archetto e poi attraversiamo anche la rocaille che viene dopo che si trova appunto ancora più a sinistra e quindi avremo fatto qui qui sotto abbiamo fatto metà del sostegno qui adesso facciamo i sostegni e vediamo bene come sempre dobbiamo prendere 5 rocaille 11 0 eccole qua e poi ci dobbiamo andare inserire in questa rocaille scusate in questa rocaille che è questa qui che abbiamo sotto la 15 0 così vi faccio vedere bene quella che si trova sotto la 15 0 che poi era quella dell'archetto di 3 che avevamo qui da questo lato tiriamo il filo ecco qui avremmo fatto appunto il sostegno poi dobbiamo andarci a inserire molto importante questo nella rocaille accanto che era quella dell'altro archetto di 3 così si fissano meglio e si diciamo collegano uno all'altro questi sostegni che stiamo facendo tiriamo il filo vedete il filo si andrà a disporre in questo modo si tirerà bene questa situazione e poi mettiamo altri 5 rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire in questa rocaille che quella di prima cioè in queste qui tre centrali dell'archetto di 5 praticamente ci andiamo a inserire quindi qui qui e poi e poi scusate se solo diciamo smosso un pochino ma dobbiamo tirare bene il filo e poi ci inseriamo anche in questa rocaille e qui siamo pronti per ripartire con le 5 rocaille e andarci a inserire qui sotto come vi ho fatto vedere prima non lo rifaccio cambio l'ago perché sia un po' storto quindi ripetiamo questi passaggi per tutto il giro poi quando arriviamo qui però termineremo insieme perché dobbiamo finire diciamo il sostegno qui sotto questa ginkgo a tra poco come vi avevo annunciato facciamo insieme quest'ultimo pezzo appunto dei sostegni sul retro perché stiamo uscendo appunto da questa solita rocaille che è quella sotto la ginkgo dell'archetto sotto la ginkgo e ci andiamo a inserire con le 5 rocaille 15 0 qui su nella rocaille che sapete quindi questa qui del gruppetto di destra del gruppetto di 3 rocaille di destra questa che si trova sotto le 15 0 andiamo a inserirci qui tiriamo il filo e ci troveremo così adesso ci vediamo tra un attimo per ragioni pratiche che adesso da qui ci inseriamo direttamente nel sostegno che si trova sopra ecco qui diciamo in teoria potremmo ridiscendere qui come abbiamo fatto per gli altri e poi magari ripassare tutto quanto qui e fare il cappietto in ogni caso il cappietto avremmo potuto farlo prima però io devo essere sincera me ne sono dimenticata quindi adesso usciamo da questo punto usciamo da queste due rocaille che abbiamo qui che sono due delle tre che erano originalmente sopra la ginkgo quindi dalla rocaille centrale sulla ginkgo che in ogni caso vedete questa qui la sesta rocaille dopo la 15 0 perché qui sulla ginkgo ce ne sono 11 in tutto e possiamo anche girare il lavoro e possiamo prendere quattro rocaille 11 0 vedo che il filo non è che corto è per carità però anche due metri e mezzo potrebbero andare meglio ma poi ve lo scrivo sotto nell'info box giusto per avere un po' più di manovra nell'ultimissima fase mettiamo sul lago quattro rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire semplicemente nella rocaille dalla quale stiamo uscendo ma dall'altro lato e ovviamente dobbiamo ripassare un paio di volte nel cappietto e poi proseguiamo ancora lungo queste rocaille che si trovano sul bordo dei nostri orecchini e poi facciamo il nodo proseguiamo ancora nel lavoro e possiamo tagliare il filo facciamo i nodi a tra poco gli orecchini rollercoaster terminati credo che potranno piacere a chi ama gli orecchini grandi vi faccio vedere ovviamente sono solidi con tutto questo lavoro che abbiamo fatto e comunque tutto sommato e anche i sostegni sul retro sono simpatici da vedere io ovviamente vi ringrazio per il vostro sostegno e anche per aver seguito fino qui questo tutorial lascio nell'info box il link al appunto box del quinto creative anniversary di semplici bijoux ringrazio sempre René e Stefano per avermi fatto partecipare a questa iniziativa così importante e vi do l'appuntamento qui sul canale per altri progetti a presto grazie ancora per il vostro sostegno grazie a tutti